Oggi è un momento importante perché si sigla un accordo di collaborazione relativamente alla tematica della conciliazione dei tempi della famiglia con quelli del lavoro. È un accordo che vede dei soggetti istituzionali, sottoscrittori appunto di un patto che sarà propedevitico alla costruzione di una rete di interventi finalizzata proprio alla conciliazione famiglia-lavoro. I soggetti sottoscrittori sono enti e soggetti tutti importanti del nostro territorio, quindi la Regione Lombardia, l'ASDA di Varese, la Provincia di Varese, la Camera di Commercio di Varese e il Consiglio di rappresentanza dei sindaci della nostra provincia, unitamente alla consigliera di parità della provincia di Varese. Sono i soggetti promotori di questa iniziativa che poi dopo verrà allargata da altri enti e soggetti pubblici e privati che vorranno collaborare a questa iniziativa. Ed è importante proprio per questo perché definirà i compiti e le diverse responsabilità proprio nella costruzione di un piano di intervento che andremo a costruire nel prossimo mese, finalizzato proprio a favorire la famiglia nelle tematiche appunto della conciliazione, proprio per sviluppare sempre di più queste iniziative che saranno a supporto delle esigenze delle famiglie e del lavoratore.